Diciamo che vado qua Speravo in un arco invece no Speravo ancora in un arco invece no Ok qua non ci dovrebbe essere niente C'è un pò di parkour Ciao ti dispiace morire male Grazie Sai com'è Ok Andiamo posso andare andiamo per di qua Si E poi vabbè c'è una scorciatoia la sul destra Non so se la vedete di qua Oh mamma mia Oh mamma mia C'è della sabbia la sopra Oh mamma Ok vediamo un pò Te ragnatele giustamente Ho un pò paura eh sta qua Oh Buono Uh Quei cazzo è successo Ora posso affrontare I mob Si vabbè dammi quanto volta lo vuoi Non mi interessa Posso affrontare i mob da lontano Domanda Che mob affronto se non c'è Un posto dove andare WTF Ah Ce l'ho per sotto giustamente Ah Eccolo là non l'avevo visto Eh va che sei stronzo però Ok questo lo ammazzo A mani nude Non voglio specare frecce Già ne ho poche Ok quante frecce ho Sei non buono Poi magari ci sono riempite Noi magari Magari Ok Something does not work during fight Spawning To call Ok Quindi ora ci sarà una battaglia Se non va bene devo Fa spawnare due pezzi di cuore Oh WTF Oh Holy shit Eh no sei stronzo Mori Mori pezzo di merda Ok I miei due call I miei due call WTF Oh Per fortuna non ha danno la distanza Deveva riuscire ad ucciderlo Il fondo a tribe Attribute Gather for Summon the boss Ah Mi ha dato un tributo Capito sotto strunzo Davvero però eh Mannaggia a lui Oh che cosa se sta roba Ah si è stronzo Ah si è stronzo Si Mi sa che posso O aspettare la piattaforma Che è quello che farò Aspetto la piattaforma Pure vado a piedi Ah che cazzo Ecco ti Dimmi di aspettare però Penso il merda Va bene a piedi Ce la si fa Ce la si fa Ma anche abbastanza veloce qua Ah Non si possono muovere nell'acqua Comodo Buona comodo sul serio Interessante Interessante Si muovite male Ciao anche tu Si ciao Non ti faccio autografo Mi dispiace Ciao Si ciao Ciao tu chi sei No non mi ricordo Ciao si è stato bello Si si proprio Ah ho capito come funziona Immagino Penso di aver capito come funziona Mi sa che ad ogni modo devo aspettare la 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 roba Per passare oltre Per passare oltre Le peggio cose Vediamo quanto è veloce Beh bisogna manco aspettare tanto Comunque ho ammazzato gli zombie Ah è una roba in più Che dici vabbè Ma che cazzo mi frega Ho ammazzato gli zombie Queste scarite però non capisco che cazzo servono Guardi c'è qualche cosa segreta Va sopra Ma che se aspetto qua Ho detto Proviamo a saltare Oppure provo a saltare da la Ma no è troppo veloce per saltare da la Se non si accorge che cazzo fa poi Ecco Sta per arrivare E' una fatta puttana Nooo Nooo Che strunze Mied Qui ci sono Fai vedere I quattro tributi Che saranno un pezzo d'oro Un pezzo Nemmeno un blocco Potrei fare il blocco Ok sta per spawnare Sta per spawnare Ok Oddio va veloce Va veloce va veloce Va veloce Va veloce voglia se va veloce Ce la si fa Ce la si fa Ce la si fa Nooo E' difficile Ma va fa culo Ok Qua c'è quello dello smeraldo Spawning two emeralds Perché due? A me ne ha dato solo uno Boh Si sa Ecco Si sta caricando Cosa succederà mai Non mi interessa chi sei Cosa non sei No Io ti ucciderò A prescindere Nel potere conferito Mi da Brent E' colpa sua E' muori Bestia Cagna Lurida Eccolo che arriva Eccolo che arriva Dov'è? Oh Questo vizio e mierda Fortuna non hanno da una distanza questi qua Due E mi sa che devo darmi un altro Un altro tributo Come faccio a spawnarmi un pezzo di Ah no Ora uno solo Fa tutta la solo insomma Ah boh Non mi lamento E ora? Fai vedere la mappa No Di qua non posso proseguire Di là neanche Ti buti non posso usarne Mi dato qualcosa per proseguire Questa è la dungeon map E' la prima però Questa è la dungeon livello 2 vero? Questa è dungeon map Eh no Tutto il dungeon map Si chiama Fai vedere qua se c'è qualcosa Questo blocco mi sembra un po' stranza Per la luce No No Non possiamo proseguire 3 Quante cazzo tene dò Tene dà infinite Ok Eh Dovelo tornare indietro Dovelo tornare indietro Problema è C'era qualche porta che non aveva Il L'hopper Perché altrimenti non so dove andare Non lo so Tanto passo qua sopra tanto mi da sempre Cosa in più Sai no è gratis Che pagina Che pagina Così La rinvece un tunnel Ma la e dove dove si può dove è andato prima Vediamo Vediamo su fondali quindi Deve tornare di qua Ah sì si è aperta questa stanza Watcher step perché ci deve essere un indizio di come passare mi sa che è il soffitto e mi sa che è una cosa di questo tipo Devo seguire la cobblestone mi sa O merda ah ok cobblestone era esatto e qua siamo qui Giustamente o vabbè che siete cosa succede qua Drogati I colori vividi e pulsanti Badonna quanta gente State un po calmi però ho capito tutto e volete l'autografo e tutto però dai Autografo non lo faccio no che non te lo faccio piccolo bastardo ok Frecce sempre comodo sempre comodo Qua c'è il coso dell'oro dell'oro la non, so come ci arriverò mai Non penso di Non penso sia possibile arrivarci la Fai vedere Ok sono comunque riuscita a prendere le cose sono sacrificato 3 cuori anzi forse qualcosa di meno però ci sono riuscito Ok qua penso ci saranno sempre Sperate Sperate Quante fricce ho 18 In caso c'ho la mia splash potion of regeneration Sperate 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 Sperate